allora faccio il video sdraiato a letto perché sono stanco morto e ho lavorato tutto il giorno allora innanzitutto sta finendo la roma 3 a 1 cortoro singo dopo 13 minuti ha lasciato il campo per doppia ammunizione quindi ancora nel regolamento del calcio la doppia ammunizione esiste esiste talmente tanto che il secondo giallo qui da singole manco c'era il primo era quasi in arancione ma il secondo manco c'era e naturalmente non è polemica riposta verso a roma è una polemica riposta al continuo al video che ho fatto ieri allora il video viene fatto soprattutto non era preventivato ma viene fatto soprattutto per i saluti ammonia mia grande seguace lei e le gobine come chiamano le sue amiche gobbe che c'è che mi seguono allora e faccio un video brevissimo e dico che comunque sia oggi alle 7 c'è stata la diretta su cromosoma on air e domani metterò il link in descrizione per vederla perché va solo su facebook diretta e chi non c'ha facebook naturalmente non la può vedere e volevo parlare 30 secondi breve di dichiarazione di pioli dell'altra settimana dopo il ricore che c'erano i ricori che c'erano con Genova pioli ha detto mi hanno fatto la domanda ricoraio e mi è stata ripostata sta cosa e mi ha fatto una battuta sul ricore paio oppure pioli fai battute mi pare che la squadra c'è più rigore in seria e vi ricordo che al derby c'era mancata espulsione su montari su che si montari ancora su che si e il caso a noria c'è russo e rigore per la comitata dei romagnoli ma lì neanche lì è intervenuto ma proprio pioli pensa a juve quindi questo qui mi fa cominciare a prevedere giannerella perché quando cominciano a parlare da juve vuol dire che ci hanno paura e l'inter vista come sta in questo momento non mi preoccupo anche perché ieri ho visto un conte pauroso perché cambia praticamente con un uomo in più leva l'attaccante mette in difensore e se schiaccia dietro il napoli avrebbe addirittura meritato il pareggio e mi fanno male di queste cose il napoli dovrebbe meritare il napoli per me deve perdere tutte le partite che gioca per il gioco apro caccolese e quindi io continuo a essere diciamo tra virgolette fiducioso nei nostri comunque ancora limiti di gioco perché ieri col tutto che la partita c'è viene infangata da doveri cioè viene incartata in maniera mostruosa se noi al primo tempo con i sei palle che ci abbiamo avuto e mettiamo dentro stavo a parlare dell'altra classifica e lo stesso discorso vale col Verona col Benevento col Crotone dobbiamo vincere a prescindere perché noi siamo a juve però a termini del regolamento e a termini dei episodi stiamo in deficit come si suol dire però in questo deficit c'è il buon Paolo Zigliani ex carciatore e attuale cornuto perché carciatore sei ex però cornuto ci rimani a vita perché Montero vi ricordo a tutti gli si è fregata la moglie e scrive una lettera alla FDG dicendo di squalificare Enrico Chiesa per il clamoroso tuffo di che passo indietro io sono uno di quelli che dice che rigore è generoso però non è uno scandalo perché il tocco c'è è vero che Chiesa cade con una frazione di ritardo molto simile a rigore dato questa sera alla Roma però non credo che Zigliani faccia la lettera FDG per chiedere la squalifica di Dzeko ma quello che mi chiedo è che Zigliani fa la lettera FDG per chiedere la squalifica di Chiesa e sul Twitter dice che praticamente il furto della Juve non viene pubblicizzato perché Ronaldo sbaglia rigore ma addirittura viene crocifissa l'Atalanta per la mancata espulsione di Derong allora io vi dico una cosa voglio Zigliani davanti a me mi voglio mettere un paio di camperos gli stivali quelli che si usavano nell'anno intanto quelli con la punta di ferro che io odiavo e lo voglio prendere a calci nelle palle perché io feci un video dicendo che Pistocchi era un pezzo di merda se Pistocchi è un pezzo di merda te Ziglia sei uno schizzo di diarea sei uno schizzo di diarea sparato sul muro del bagno dell'autogrill mi fai proprio schifo mi fai comitare sei un uomo di merda sei un uomo di merda con questo vi saluto video breve coinciso per darvi la buona notte e dirvi fino alla fine forza Juventus Zigliani e Napoli merda notte e dirvi fino alla fine forza Juventus Ziglia